Finalmente è arrivato il momento per i cittadini aquilani di guardare al futuro con fiducia, dopo aver sofferto negli anni post-sisma. La cittadinanza riprende pian piano possesso della sua città, che torna alla normalità. Un esempio lo è la riapertura della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Con parole di speranza rivolte alla rinascita della città, si è aperta la relazione della Presidente della Corte d'Appello, Fabrizia Franca Bandera, nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Inaugurazione che concide con la giornata della memoria, alla quale Franca Bandera ha rivolto un pensiero in particolare, ricordando la promulgazione delle leggi razziali del 1938. Una relazione, quella della Presidente della Corte d'Appello, che ha puntato sull'analisi dei fenomeni che hanno riguardato l'Aquila e l'Abruzzo. Un richiamo anche a quanto è successo un anno fa, la nevicata del 18 gennaio del 2017, la tragedia di Rigopiano, le vittime innocenti e poi gli incendi a Campo Imperatore, richiamando le responsabilità di chi ha omesso azioni e controlli. In Corte d'Appello si è deciso, ha spiegato Franca Bandera, di dare priorità assoluta a procedimenti in materia di protezione internazionale. Nel settore lavoro si registra un generalizzato calo della pendenza complessiva, circa meno 11%. Le riforme dell'ultima legislatura hanno inciso in modo significativo sull'andamento della giurisdizione, con la legge Fornero e il Jobs Act. Un cenno alla notevole diminuzione dei reati tributari, conseguenza dell'innazzamento delle soglie di punibilità. E poi un ampio escursus di reati in materia ambientale, degli ecoreati, che hanno portato al centro la dell'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale l'Abruzzo, la cosiddetta regione dei parchi. Infine si è parlato anche delle stragi delle donne, così Franca Bandera ha definito la violenza maschile, che sfocia in femminicidio. Ma poi anche tanti casi di stalking e di reati contro la libertà sessuale e maltrattamenti in famiglia, che spesso hanno come obiettivo mogli, madri e minorenni. Con preoccupazione si è denunciato l'aumento dei reati commessi da autori minorenni, come lesioni volontarie, violenza sessuale, stalking, rapine, risse e il fenomeno di Blue Wall. Un altro tema evidenziato riguarda l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che in Abruzzo sono 200. Fenomeno, anche questo è un aumento e di significativo impatto sociale. Franca Bandera ha rivolto anche una riflessione al mondo dei magistrati. La magistratura, ha detto, sembrerebbe investita da una sorta di sfiducia diffusa.